Ragazzi per armi, material trappone, per starvi al mondo oppure skin e picconi per battaglia reale c'è il Chris Shop in descrizione e con il codice sconto XMADER potrete ricevere un 10% di sconto Link in descrizione Ragazzi oggi siamo pronti per il secondo episodio di bronzo a Unreal Ci eravamo lasciati con argento 2 al 66% Adesso puntiamo almeno ad arrivare a oro in questo episodio, è molto difficile Andiamo con la prima delle tre partite che andremo a svolgere in questo episodio Mamma mia, sto scorreggiando l'arma Ok, allora Ci lanciamo, ci lanciamo, ci lanciamo, ci lanciamo Piazza piacevole, vai Via Battiamo bene con tutte queste armi, mamma mia Mamma mia Un'arma voglio, non chiedo tanto Un'arma, per favore Va bene, non prendo il pompa di due Fammo cazzo Ma questo è stupido, c'è c'è il pompa di fianco, perché non la prendo? Ma che so? Ma è col George, ma col Bill Jordan Aia E la prima è andata stra bene Due kill Quanto, quanti punti abbiamo fatto? Oh, minchia Cash ball Ma è possibile mai che non sono capace a trovare armi? Uff Vabbè, è un po' stupido il ragazzo là, eh Abbiamo già raggiunto le stesse kill di prima, quindi ora il nostro obiettivo è superarla Dubito fortemente delle mie capacità, quindi non ce la paremo Ok C'è un messaggio della prof che sta parlando a Strolpideco Che poi ti posso astrarre ulteriormente? Sì, però per favore non voglio nessuno qua Mi cazzo, vabbè Siamo in top 34 Uff C'è uno di stesse, andiamo Nascondiamoci Cazzo M'ha visto, m'ha visto, m'ha visto? Ma guarda È un problema questo, è un grande problema No, per favore, non mi fissavo Non mi fissavo Sto a questo Dai, ma com'è possibile? Ma dai Ragazzi, dall'ultima clip che avete visto sono passate un po' di settimane tipo Nell'ultima clip infatti avevo i capelli lunghi e se mi sono tagliati che mi sono pure ricresciuti Ma cosa più importante Nell'ultima clip ero ancora minorenne Adesso sono mangiorenne, cazzo Che è molto importante Adesso andremo a fare l'ultima partita del secondo episodio di Da Bronzo a Unreal Siamo ad argento 2, quota 6% Ora non so se con una partita riusciremo ad avere a oro 1 Ma io ci spero Allora, come ultima partita, non mi ricordo negli altri partiti dove stiamo lanciati Ma io direi di lanciarci Colone cineste, vai Armi, dove sono armi? Perché non ci sono armi? Fugì 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 Sьer pompa Oh, fra un pò Vieni qua, pezza di me No, mi hanno fattuto la chi... Nooo Nooo Mi hanno fottuto la kill Fammi anche Una kill Dovemmo averne due Ci la ha non mi puda E sti cazzi Dove hai recuperato? No, 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 no Per favore, per favore Per favore Che poi no L'amore Se in fondo ci pensi È l'unico appiglio In un mondo di mostri Quella casa là Quella casa là Quella casa là Io ho bisogno di vita 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 Cos'è? Vita vita Ma quando l'hanno messa questa cosa? Ma vada là Ma come si diverte Poi frate Ma tipo qua Non c'era una volta Tipo la frutta Per dar la vita Marò Ma come so forte A vita non sto messo più tanto A darmi Sto messo una merda Che ho solo un pompa E rimangono 30 persone Ora Oh 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 Ma io Parchi Ma come ho fatto a non vederlo Scusatemi Oh ma c'è un altro Mi serve vita ragazzi Bisogna sacrificare polli Oh lì c'è uno Ma stanno timando Fammo camma Siamo rimasti in 10 Un treno Un treno Esce qualcuno di brutto Nascondiamo Marò Eccolo Fammo ti distrug Marò questo qua me lo mangio Non c'è vita Me lo mangio Me lo mangio Me lo mangio Fammo camma Ci abbiamo 2 kill adesso Dovremmo averne 3 Ricordando Quel bastardo Frio di tro Mi ha rubato la kill Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mi sto emozionando 3 kill Mi sto emozionando 3 kill Siamo quasi in top 10 Dobbiamo cercare altra gente Perché io voglio fare tanti kills C'è uno Abbiamo un'altezza Ma non vediamo la gente Ma non stava visto Bella botta Cioè mi conviene scendere A questo punto Dobbiamo andare in safe Ah per te fosse un tipo Ok Brutta situazione E già Per favore Lasciateci in pace Non ho fatto niente di male Oh Brutto Vattorsissimo Vattorsissimo Oh Che cazzo Da però che palle Così Guarda sto bastardo Va Va bene Quinti Con 3 kill Come siamo messi Dammi I risultati Quelli belli Al 103 Al 50% Quasi oro Quindi signori Do video Giunge al termine Like Iscrizione Commento Condivisione Seguitemi su Instagram Fate iscrivervi ai vostri amici Compagni di classe Professori Zio Nonna Cane Tutti Vi voglio bene Ci vediamo Nel prossimo video Ciao Ciao